Ciao fragoline e ciao fragolini! Nuovo video! Allora, questo è un video come leggete dal titolo, prodotti food finiti, vi dico se sono buoni e do una mia recensione su tutti i prodotti che ho mangiato. Allora, certi non li ho finiti, per cui semmai in un video, adesso vedo se sono pochi, giustamente non farò un video per niente, se sono di più come questi farò un altro video come la seconda parte e vi dirò se sono buoni le cose che ho mangiato oppure no. Allora, ho un sacchetto pieno con le cose che vedete anche in giro, cioè sono stra pieno, adesso vi farò vedere che cosa ho assaggiato. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia così ne farò altri e mi raccomando, nella nuova casa ci saranno altre ma tantissime cose che proverò, che secondo me questo video è anche utile. E vi aspetto su Instagram, ma non so dove lo metto, ma vi aspetto su Instagram, che metterò prima i prodotti che compro e poi su YouTube. Allora, iniziamo, se non dura troppo il video. Iniziamo da questa, che è la Monster Punch. Punch, punch. Questa qua. Allora, questa vi dico che è buona. Io l'ho assaggiata, non è male, è buona. Sa tipo di... Allora, non mi viene il nome. Iniziamo bene. Come sempre, quando devo registrare i video non mi vengono mai nomi. Tipo la frutta tutta mischiata. Non mi viene il nome. Un succo che appunto non mi viene il nome. Vabbè, è meglio andare avanti. Comunque, ve la consiglio, perché è buona. Io l'ho assaggiata. Ed è molto buona. Poi ho preso questa, l'ho assaggiata. Che questa è la Mangolocco della Juiced Monster. Questa sì, non è male. Tra le due, forse preferisco quella rosa, che è questa qua. Però non è male, potrei ricomprarla di nuovo. Questa qua ha un gusto diverso. C'è dentro leggermente un po' di cocco, ma leggermente. Si sente pochissimo, non tanto. Però, questo... Appunto, adesso faccio cadere tutta. Vai. Poi, adesso ci sono anche quelli asiatici che ho comprato a Lidl. L'ho assaggiati. A proposito, dato che ho fatto qualche clip su... Per farvi vedere come sono certi... Certi quelli che ho mangiato in poche parole. Ve li lascio qua, intanto che vi spiego. Tipo, questi qua sono ravioli, dimsum, salmone e avocado. E poi c'è quello carne e zenzero. Questi qua. Allora, sinceramente sono bocciati. Non mi sono piaciuti. Io li ho fatti, perché potevi farli sia fritti o in vaporiera. Io li ho fatti fritti. Erano troppo duri. Si, sapevano di carne e zenzero o salmone e avocado. Vabbè, avocado non tanto. Solo salmone. Ma, sinceramente, non mi sono piaciuti. Per cui, questa è l'ultima volta che li compro. E poi, anche perché sono costati un po' di più. Comunque, bocciati. Non ve li consiglio. Poi, ovviamente, dipende dai vostri gusti. Poi, ho provato questi americani, le patatine americane del barbecue al curry. Strabuone. Cioè, proprio strabuone. Questo ve le straconsiglio. Li ho fatti fuori in un giorno. Io e il mio ragazzo, per cui, metta a metà. E, ovviamente, queste cose non le mangio da sola. Le mangio insieme al mio ragazzo. Però sono strabuone. Per cui ve le straconsiglio, perché sono buonissime. E, quando poi ci saranno a Lidl, io li comprerò ancora. Poi, questi qui. Questi sono molto buoni. Sono già sbucciate. E sono promosse. Per cui, ve le consiglio. Se per caso, poi, il prossimo anno ci saranno ancora, di sicuro, io li prenderò. Perché non hanno la buccia. Non devi sbucciare le tessere. Sono già sbucciate. E, sono strabuone. Per cui, non c'è niente da dire. Queste ne valsa la pena a comprarle. Poi, io metto tutto lì, ma poi cade giù tutto. Allora, vediamo. Ok, il secchetto. Ci saranno altre cose qua in mezzo. Questo qua, il mango. Allora, questo è il mango. Sinceramente, preferisco quello normale. Che lo sbucci te. Questo è già sbucciato. Ma, sì, sa di mango. Ma il gusto è un po' molto diverso. Per cui, questo qua non lo ricomprerei. Perché, sinceramente, non mi è piaciuto tanto. Per cui, questo qua. Così, così. Diciamo. Sinceramente, preferisco il mango proprio da sbucciare. Quello vero che sa di più. Poi, questo è la selezione parti vegetale al chic. Non un po' di tutto. Allora, vediamo. Perché io, dato che l'ho mangiati a giugno. Voi questo video lo vedete a luglio. Ovviamente, non mi ricordo. E allora, l'ho segnati sulla confezione. Solo che questo non mi sono dimenticato di segnarli. Ma, vuol dire che mi sono piaciuti. Questi qua erano stra buoni. C'erano anche le salse dentro. Fritti. Sono molto, molto buoni. Per cui, queste ve le straconsiglio. Quando volete fare... Ovviamente, queste cose qua ci saranno nei giorni in cui c'è la roba asiatica. Per cui, ogni anno la trovate. Adesso non so se c'è ancora. Comunque, straconsigliati. E vi assicuro che sono buoni. Per cui, se volete prenderli, prendeteli. Poi, gelato. Dragon fruit. Questo non è male. Allora, il frutto non si sente un granché. Sinceramente. A parte che poi non me lo ricordo. Perché io l'ho assaggiato quando ero in Telandia due anni fa. Che sono andata in Telandia due anni fa. E c'è differenza. Perché assaggiando il frutto vero lì all'estero. Vi assicuro che è un'altra cosa. Che assaggiarlo qua. Per cui calcolate che il gelato, diciamo, fruit, sì, è buono. Potrei ricomprarli. Solo che sono troppo piccoli. E adesso non mi ricordo se c'ho la clip. Se c'ho la clip ve la metto qua. Sono troppo piccolini. Pensavo che erano abbastanza grandi, normali, diciamo. E invece sono troppo piccoli. Però, sì, è una via di mezzo tra il ghiacciolo e il gelato. Per farvi capire. Però non sono mali. Per cui va bene. Spero che non mi cade niente. Poi, andiamo con questi. Che sono le cipolle americane fritte. Queste sono stra buone. L'ho finita da sola. Perché al mio ragazzo non gli piacevano. E dato che a me piace sempre quasi tutto. Ovviamente ho fatto fuori una confezione dopo una settimana, più o meno. Sì, una settimana ho fatto fuori tutto questa scatolina. E sono molto buoni. Adesso non so se ho fatto la clip. Comunque, le clip che ho fatto, ve le metto di... Mmm, c'è ancora l'odore. Che buono. Ve le metto di fianco. Se no, niente. Comunque, promosse. Poi, andiamo su questi. Le oreo cereali. Le ho avvisato su Instagram. Vi ho già detto cosa ne penso. Poche parole fanno schifo. Sono bocciati. Non mi piacciono. Non sanno di niente. Mi sembrano tipo le palline, quelle al miele. Che però, quelle al miele, sanno al miele e sono buonissime. Queste non sanno proprio niente. Quando le mettete dentro nel latte, fate praticamente il cioccolato. E fa troppo cioccolato nel latte. E io, sinceramente, non è che vado pazza. Per cui, 4 euro solo questa confezione. Io pensavo che era una bomba. Dopo aver speso 4 euro, sinceramente, anche no. Per cui, non ve le straconsiglio. A me non mi sono piaciute. Per cui, bocciate proprio. Poi, veloce. Passiamo a queste due, che sono uguali. Ramen. Ramen chicken. Allora, queste qui sono strabuone. Mi sono trovata bene. E sono molto buone. Per cui ve le straconsiglio. Sono di 100 grammi. Calcolate una confezione, cioè un pacchetto, lo mangia una persona. Io l'ho mangiata una e l'altra l'ha mangiata il mio ragazzo. Per cui, straconsigliate. Mettete dentro l'acqua. E niente. Direi che sono strabuone. Quando li metteranno ancora a Lidl, li comprerò. Poi, vi faccio vedere queste altre due confezioni. Vado veloce. Sono altri tra quattro pacchetti. Questi qui della Noodles, tailandesi. Allora, non erano tanto piccanti. Leggermente, un pochettino. Si sentiva il piccante. Non era uguale, identica, alla pasta tailandese che ho mangiato in Telandia. Vi assicuro che se andate in Telandia, la pasta che fanno lì, cioè, è strabuona. Infatti vorrei ritornare di nuovo in Telandia, che non avete idea. Cioè, infatti ogni tanto, quando ho tempo, compro le cose nel negozio qua, tailandese. E poi faccio la pasta tailandese in casa. E viene uguale, identica, a quella che fanno loro. Perché gli ingredienti sono uguali. Per cui vi assicuro che è strabuona. E mi sono innamorata di quella pasta che, giustamente, qua... Sì, la puoi fare in casa, ma è molto diversa. Cioè, è più buona quella che fanno loro. E questa sembra uguale, ma... Non è quella che ho assaggiato in Telandia. Però è strabuona. È buono, per cui ve lo straconsiglio. Non è male. La prossima volta li comprerei ancora. Ovviamente non ho scritto... Vabbè, comunque, questi qua ve li straconsiglio. Il noodles tailandesi, perché sono molto buoni. Io non so neanche dove mettere le cose. Comunque, andiamo avanti. Il riso al curry e pollo. Questo non mi è piaciuto. L'abbiamo mangiato in due. Non mi è proprio piaciuto. Era un po' secco. Poi il riso non... Troppo asciutto. Anche se c'avevi dentro le salse così, troppo asciutto. Non mi piaceva. Per cui è bocciato. Questo qua, stranamente, lo boccio. Perché... Boh, non me... Scusate. Deve per forza passare l'aereo. Ogni volta, è sempre così. Passa. Poi, i miei pork corn americani, quelli al caramello. Questi qui sono stra buoni. Abbiamo preso due confezioni. Tutte e due confezioni mangiate. Ovviamente, una confezione l'ha buttato. Infatti, se vedete, ci sono i pezzetti di pork corn. E l'altra confezione me l'ha buttata. Per cui vi faccio vedere questi. Comunque, questi qui sono buoni. Stanno di caramello. Non sono niente male. Me le straconsiglio. Poi, gli ultimi due. Questi qui, al pollo. C'è dentro la salsa. Pollo fritto, in poche parole. Dentro c'è la salsa. Non è male. È un po' piccantina. Ma anche troppo. Troppo piccante. E non ho capito se ho messo il bollino dove c'è scritto è buona oppure no. No, non ho messo niente. Vabbè. Comunque, non sono mali, ma sono troppo piccanti. Però ve le straconsiglio. Sono buoni. E tipo, poi potete farlo anche in casa. Prendere il pollo. E lo impanate. E poi lo fate fritto. In poche parole. Poi ci sono altre due o tre confezioni che ho preso di altre cose. Che però non le ho finite. Le sto per finire. Certi invece non le voglio finire perché fanno schifo. In poche parole. E niente. Per cui vi faccio vedere l'ultimo che è questo. Che è il riso a wasabi. C'era dentro delle palline tipo di riso. E ovviamente questo, per farvi capire, questo è un wasabi. Sì. Queste andranno in spazzatura. Uno perché è stra piccante. E appena l'ho mangiato, proprio stavo male. Bocciati. Proprio bocciati. Infatti mi dispiace buttare le cose che non mi piacciono. Ma non posso farci niente. A chi li do? Se qua... Cioè, se a me non piace una cosa, non piace anche agli altri. Giustamente perché alla fine abbiamo gli stessi gusti. Per cui, dato che è piccante, sinceramente fa schifo. Perché è troppo piccante. Poi wasabi, non ne parliamo. Questo è bocciato. Ho mangiato solo le palline, come vi ho detto prima, che sapevano un po' di riso. Che poi non è che sapevano tanto di qualcosa. E vabbè, qua si scadono il 30 di dicembre. Ma li butterei. Perché non ce la faccio. Cioè, l'ho fatto esaggiare uno al mio ragazzo. Stava... Ha bevuto quasi un litro d'acqua perché stava morendo. Era lì, bruciava la gola. E poi fa, no, no, mangiateli tè. E allora alla fine non me ne sono neanche mangiata io. Perché, cioè, come vedete... A parte la confezione rossa. Però... Proprio bocciate. Per cui non ve le straconsiglio. Infatti, le cose che non mi piacciono, mi dispiace buttarle. Ma non ci posso fare niente. Io di solito compro le cose... Come se voi andate a supermercato, c'è qualcosa di nuovo. Dite, ah cavolo, però questo voglio provarlo. Poi quando lo provate a casa, cioè, vedete che non è buono. E cosa fate? Lo tenete? Non penso proprio. Credo che lo buttate. Per cui è la stessa cosa. E niente. Queste erano le cose che ho mangiato, le cose che ho assaggiato. Fatemi sapere se volete la seconda, terza parte. Non mi ricordo, ormai ho perso il conto. E di altre cose, tipo, asiatiche, non mi veniva la parola, che ho mangiato e che sono ancora in giro, sparsi. Che non so perché, ma devo ancora finire di mangiare. Allora, io direi che il video è già durato fin troppo. Sono andata anche veloce. E niente. Io vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, aspetto qui sotto i vostri commenti. Se avete assaggiato tutte queste cose e, ovviamente, cosa ne pensate. Detto questo, chi non è ancora iscritto al canale, iscrivetevi che verso settembre, ottobre e l'anno prossimo vedete tante altre cose strabuone che comprerò e vi farò vedere nella casa nuova. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!